Ciao carissimi, sono di nuovo io, la vostra Juliette. Vi ricordate? Recentemente ho ricevuto questi valori un po' preoccupanti in soggiorno in camera da letto e in cantina al valore nettamente superiore al valore di riferimento di 300. Ecco perché ho chiamato l'esperto di Radon, il signor Geyser. Salve, signor Geyser. Avete già trovato qualche possibile punto di infiltrazione? Così, al volo, ci sono alcune cose qui. Dopotutto è un vecchio edificio. Il pavimento in cemento ha grosse crepe, non è ermetico al Radon. Qui abbiamo uno scivolo pozzetto di raccolta che non sembra nemmeno stretto. Qui al lato abbiamo il tubo di scarico. Questi sono tutti i possibili punti di infiltrazione. Se usiamo la stanza solo come cantina, non è un problema. Ma se dovessi trasformarla in una sala per feste o in una sala fitness? Esattamente, lei ha ragione. Al momento la situazione sembra buona. Non ottima, ma buona. Al piano superiore si ha al di sotto del valore di riferimento di 300 BQ al metro cubo, mentre qui sotto il carico di Radon è elevato, oltre 1000 BQ per metro cubo. Ciò significa che se si cambia la destinazione d'uso, qui sotto si deve fare qualcosa. E cosa potrei fare? La misura immediata consiste nell'areare, cioè nell'aprire le finestre, preferibilmente con una corrente d'aria, in modo da rinnovare l'aria della cantina. L'inclinazione non è sufficiente. Sì. Ma non è possibile farlo a lungo termine. A lungo termine vedo due possibilità. O si installa un sistema di ventilazione, preferibilmente con recupero di calore. Sì. O si installa un pozzo di Radon. Ok, che aspetto ha un pozzo di Radon? È così. Si apre il pavimento di cemento, circa un metro quadrato. Si scava in profondità. Poi si mette della ghiaia e un tubo di ventilazione e si getta di nuovo del cemento intorno. Quindi viene installato un ventilatore che aspira l'aria, contenente Radon, all'esterno. Ah, ok. Allora il Radon non entrerà mai nell'edificio. Sì, esattamente. Lo intercettiamo sotto l'edificio e lo conduciamo all'esterno. Immagino che varia a seconda del piano. Quanto costerebbe il più semplice dei semplici? Beh, se tutto funziona in modo ottimale, se riuscite a installare il pozzo di Radon al primo tentativo, allora dovete fare i conti con forse 5.000 franchi. Ok, devo ancora parlarne con i miei genitori. E soprattutto, se si fa qualcosa qui, bisogna ricontrollare la situazione del Radon. Ciò significa che sarebbe obbligatoria una misurazione di controllo con un dosimetro. Ok, va bene. La ringrazio molto per il consiglio, signor Geiser. Con piacere. Grazie. 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 Grazie.